Match tra amatori Modena 1945 e Roller Hockey Scandiano Attenzione all'azione personale del set di Scandiano che però perde palla 2 contro 1 per Modena Scandiano con il gol di Bozzetto Scandiano ha perso una palla sanguinosa e Bozzetto ha colpito Negati azione personale, c'è poi il tocco, il fischio dell'arbitro Vedremo cosa va a Pochettino, attenzione a Pochettino Ancora una volta attento, un altro contropiede, 2 contro 1 Stavolta un fallo dell'arbitro che arriva adesso Va Stefani, l'azione, la parata di Stefani, Rocca, Stefani, la conclusione, il gol Il gol di Scandiano che sfrutta al meglio la superiorità numerica Azione personale del 29 di Modena E il gol di Enrico Pochettino Grande azione personale I raveggi ad evidenziare questo varco al centro della difesa di Scandiano Va in redo dopo una prima finta Attenzione all'azione, non riesce a Non riesce a trovare Eimi, bravo però qui Pochettino ad insistere C'è il fallo e il cartellino blu Fischio dell'arbitro Va Cunegatti la parata Poi Herrero, la palla resta lì Deinite E il fischio Deinite contro Moncalieri, la conclusione, il palo Ancora Deinite, la palla resta lì Prova in un primo istante a concludere, non ci riesce Serve Pochettino Servito ora nuovamente Eimi Arriva la conclusione di Peter Eimi E arriva il gol, il 3 a 1 di Modena Un po' a sorpresa Modena che recupera palla con Bozzetto Attenzione il gol! Grandissima giocata di Christopher Bozzetto Scatenato il giocatore di Modena Invece Modena con Pochettino Arriva il fischio Scandiano Arriva il fischio dell'arbitro Va Eimi il palo La respinta ancora una volta di Moncalieri Rocca Deinite C'è il fallo di Ettore Barbieri Arriva il fischio dell'arbitro Va il numero 6 di Scandiano E anche qui arriva la parata di Moncalieri Palla in avanti Si attende solo il fischio dell'arbitro Che arriva adesso E finisce qui al pallaroller di Scandiano Debutto da sogno Nella nuova stagione per l'amatore di Modena E finisce qui al pallaroller di Scandiano